Sì lo so, sono un po' storta e scusate la voce, sto facendo lo scrub, sono un po' storta, dimostrazione perché tra un po' filmerò il video haul e quindi forse questo farà parte se riesco a fare il collage, devo provare. Sì ho cercato un posto per la videocamera ma intanto non mi ero preparata, niente questo è il kit che ho acquistato io, li ho assaporati tutti, ho sentito l'odore di tutti quanti, alla fine avevo letto sul sito che c'era arancia e cannella, frutti rossi e caramelle, ovviamente alla fine ho detto no non comprerò mai il gusto caramella, ho preso il gusto caramella perché mi ricorda forse, perché era mia età, quindi parliamo degli anni 80, 85, 86, 87, che avevo 10-11 anni, mi ricorda tantissimo quelle cicche rotonde che non duravano neanche un nanosecondo ma erano buonissime, quindi cosa faccio? Niente, provo con voi lo scrub, ovviamente ha la pellicola protettiva che io penso di lasciare, se riesco, e niente questa è la consistenza dello scrub, non ho capito ancora come mette a fuoco e prendo un po' di granulini, è incredibile, sa troppo, mamma mia, più buono, sa troppo di quelle cicche, io non so, cioè mi sono innamorata di questo profumo all'istante, niente, faccio il semplice scrub, se intanto, mmm che buono, io non so se si può mangiare però me lo mangerei, lo confesso, e ha questo oglietto che scioglie benissimo, i microgranuli, non so, lo zucchero, si facilmente riproducibile, io non ho mai comprato uno scrub per le labbra, questo è il primo, credo anche l'ultimo, non lo so, vediamo se ci saranno altre collezioni che ruberanno il mio cuore, come questo odore, ma non so, caramelle, l'odore delle cicche, è fantastico, qualcosa di, vabbè, mi metto una coccola, non mi fa per niente male, mmm, farà gustosissimo, scusate, ma io sto proprio divertendo, se uno scrub per l'altro può divertire, non lo so, ma questo è, mamma mia, troppo bello, quindi, fatto lo scrub, metto l'attivo, in pavola, che sciacquiamo le labbra, ecco, ora la posso anche tenere in mano, quindi scrub fatto, mi avvicino la luce, sembra proprio che le labbra siano belle lisce, la mia cofana, il mio bagno, le mie cose, però, ovviamente, lo scrub non lo potevo fare durante il video, non mi sembrava proprio una cosa carina, poi, ovviamente, avevo immaginato che lo scrub potesse comunque cadere, quindi, sono cose appiccicose, insomma, non me la vedevo proprio nella postazione make-up fare una cosa del genere, quindi, ho pensato di fare comunque la dimostrazione, perché ci tengo a farvi vedere come funzionano i prodotti e poi, appunto, vivere con voi l'emozione del momento ed è buonissimo, quindi, anche uno scrub per l'abbra può essere un momento di coccola, finalmente, però, come voi, sicuramente, nel video haul, volevo farvi vedere il colore, ma è un'altra impresa difficile usare una mano per prendere un aggeggio ben incastrato, questo è il balsamo, da abbiere, e, ovviamente, c'è abbinato questo colore qui, che, dirò, cioè, mi piace, no, odore niente di che, e tra i tre, secondo me, è il colore più neutro, quindi, se lo vogliamo usare proprio come lo mettiamo, insomma, già che ci siamo, come vedete, non rilascia, aspettate, che lo metto giù, perché mi sembra un po' morbido, mi ripropone, diciamo così, il gusto dello scrub, però penso che sia ancora gli oglietti depositati, perché ho sciacquato, ho sciacquato bene le labbra, però, devo capire, perché così non sembra che il balsamo profumi quanto lo scrub, però, mi si ripropone, appunto, lo stesso gusto, lo stesso sapore, è qualcosa di stupendo, non ha colore, comunque lo vedrete sicuramente meglio nella postazione, anche se, devo dire, che sbocciandolo ieri, in realtà, sulla mano, mi dava un bel effetto, comunque, è nude, è un begiolino, perché è base begiolina, non rosina, e, però, sulle labbra, le mie sono abbastanza pigmentate come labbra, quindi, difficilmente si colorano, e, però, veramente, molto carina come idea, io me ne sono innamorata, follemente, di questi kit, sono, ovviamente, nati come idea regalo, ve li faccio rivedere la scatolina, ma, va benissimo, come autoregalo, come ennesimo regalo di mio marito, e, anzi, farò un vlog dedicato al progetto di Natale, però, vabbè, questo non fa parte, quindi, anzi, è un regalo al di fuori dei regali, vabbè, comunque, qualcosa a parte, che mi piaceva tantissimo, e, vi faccio vedere nel video acquisti, quindi, non so se caricherò, prima questa specie di video vlog, comunque, visto che sta durando sei minuti, la dimostrazione, dello scrub, e poi il video acquisti, quindi, io chiudo qui il video, spero tanto vi sia piaciuto, e vi sia utile, perché ritrovate il negozio, quindi un'idea bellissima, appunto, per Natale, come autoregalo, o un regalo da fare un'amica, questo kit costa intorno agli 11 euro, e scarsi, e quindi quasi 12 euro, ma è una bellissima idea, una bellissima coccola. Ciao, al prossimo video!